Va bene, grande Armando, che tanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando, no? Vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive, come radio di supporto di tutto l'evento. Noi tre lintiere siamo qua sul palco, l'interno di appoggiato prima domenica. Ovviamente ci atteneremo con gli speaker tecnici, che invece entreranno nello specifico, non sono le discipline che ci saranno qua al Motolive. Dietro a noi, dietro al palco, ci ha posizionato il nostro...